che video troverete nel mio canale dovrete venire tutti i giorni perché i video che troverete nel mio canale sono molto diversi l'un dall'altro possono essere video divertenti istruttivi educativi e possono avere diversi diverse tematiche possono essere video di italiano storia grammatica cittadinanza storia dell'arte storia delle musica curiosità sappiate però che io sono molto curioso quindi avrete argomenti diversi video di barzellette colmi canzoni di tutto di più ogni giorno farò un video diverso a voi la curiosità di scoprire che video viene pubblicato ogni giorno ciao a tutti al prossimo video vi aspetto